Sono identiche a Blair? Allora, buongiorno, buonasera o qualunque cosa voi state vivendo in questo momento Non mi dà una bustina più vuota però Che sono? Che sono? Mamma mia Il giorno d'impegnativa Mamma mia Mi bruciano tantissimo gli occhi Ne sai che ci ne siamo un po' passati? Cioè nel senso dovevamo tornare un po' prima? Eh vabbè così è una prima da chiacchierare Lorenza hai visto il lupo? Stamattina Con gli occhi blu Bellissimi Te ne sai capace? Te l'ho mandato io come per dire Eh manda buongiorno a Giorgia Comunque non puoi capire quanti strati di vestiti io abbia E quanti strati hai? Troppi Cioè di sotto sono veramente tanti Sì a mo' sono uno due tre quattro cinque strati È schifo Però ci voleva Magliati a mettersi a cucinare Ci voleva proprio Oggi Giornata assurda Hai fatto il salve e tu vengilo dalle cinque Ma sai che in live mi chiedono di te? Sì E che chiedono? Tipo come stai? Vale Che cosa stai facendo in questo momento? Se studi? Se lavori? Lavoro Guarda un po' la panina L'ho già mangiata le patatine? No Secondo me la maionese è un po' Un po' che? Acida Panino vegetale Per provare E anche perché Non c'avevo voglia della carne Ah ma ho messo lo stesso panino Nel altro giorno Mi sai che hanno cambiato la Tipologia di panino Che scrivo comunque raga Fatelo un po' più invitante Mi raccomando Fai tutti Eh se mi escono Ti escono Ti escono Stasera di original Beh Regolare Io ho visto questa serie nel 2018 E adesso la stai iniziando a far vedere anche a Lorenzo E si sta appassionando Sono un uomo Poi tu Roba Che Un mese fa mi avrebbe detto Ma che no Io ste cose dei vampiri Non le vedo Non mi piace Un uomo E guarda 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 Pantanogino Culotto calza, calzini neri, calzini termici e montande più che altro la parte sopra è tanto concentrata perché mi dovevo coprire la pancia per sicurezza soffrendo di congestioni ma se chiamiamo ultima e li facciamo fare da casa immagine io ce la vedrei Maria non ti do niente a mangiare smettila questo non lo puoi fare amore ma lì ti ho messo le crocchette che nei robbi si sta mangiando un bel bel è ma non si impegnano proprio a fare i panini vegetariani ok mi riesco di gastoni due cipolle, un po' di insalata in più qualche salsa però ti ricordi quando siamo andati ad Ascoli, al campo da rugby per vedere non era così no è fatto buono secondo me quella era carri sintetica e poi con il nuovo coso hanno dovuto cambiare può essere può essere stessa cosa i nuggets infatti faccio i coso i nuggets sono spariti ora sotto questi commenti eh ragazzi vai a fare il burger se prendi il vegetariano classico che non c'è un bel stato, fare la mattina della sega io la carne la mangio dipende sui carni però la mangio ogni tanto mi voglio cambiare anche per diminuire l'utilizzo della carne non fa male anzi con voi dovete mangiare tantissimo mi si sono infassati gli occhi ma dopo quella brutta cosa mamma mia la nonna di Lorenzo mi ha baciato in bocca e quindi? si sono l'imbarazzo pure già dall'altro giorno mi ha detto l'altro giorno mi ha detto Giorgia ma tu non mi hai mai dato un bacetto in bocca e voi chi l'ha detto? la mia sorella la li ho messo sulla bocca ma a me fa schifo vabbè la seconda è cornuta no ma è proprio schifo mia sorella che schifo proprio l'imbrezzo ho capito ma però che delfo io sono adulta posso decidere mi ha deciso che no quindi se lo chiedevo quando tu c'hai 17 anni lo facevi perché arrivi in un RN? no non l'avrei fatto comunque ma io ho baciato tutte le mie amiche ho baciato tutte le persone a cui tengo però non ho mai baciato teggio ovvero le persone che sono cresciute in un'altra modo è un bocca e vuoda a me a me fa strano non lo so perché non vabbè però ci sono tante persone che lo fanno tranquillamente le persone sono cresciute in un attimo modo la festa è già questa è la presa di cartone cartone e salsa barbecue confermi se non vedo a me non so più niente ma era più buono prima e cala pure male Burger King per favore fatelo un po' meglio non tanto per gli incassi ma almeno per far contente le persone anche se ci sarebbero anche gli incassi perché giustamente devi fare il bisognino Nadia eh vabbè ma è normale aprigli qua lei ne usciamo lei ne usciamo lo capisce lei non ti preoccupa è buona cosa è un po' aperto così non ho il mio problema pazza qual è il mio problema? non ho il mio patatino non ho il mio patatino ma a me fa male lo stomaco sai? che è lo yogurt? no 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 è normale serio non è che l'hai mangiato di fretta ma c'è anche la pancetta sintetica non so non credo che la gente ma non ci può se li hanno vietati i brillantini hanno vietato? i brillantini e dove? non che sono? che poi li strasso sulle magliette eh sulle unghie eh sui trucco eh come i dati? perchè? non so come smantirli ah li riutilizzi mi fa schifo vuoi? mi fa schifo veramente veramente intendiate un po' di più è schifo però sono rimasta delosa questa pancetta non è pancetta perchè? che verdura strana un tofu un tofu un tofu c'è più sapore visto di sto cosa ma tu l'hai provato? no ma la tua amica eh non ricordarsi il nome chi è? la ragazza è raggitariana perchè? ma che ne so dipende dalla cultura ma i musulmani non mangiano i maiali altre carne le mangio tipo è vegetariana quella è induista in un'altra religione ancora però il latte lo beve è vegetariana o il peggio? no è vegano le uova non le mangio però il latte lo beve vabbè quello poi dipende dalla cultura prima scusami no? se vedete la qualità ovviamente migliore di telefono ma tu lo compreresti mai il 15? no adesso no no ma in un futuro non lo so se magari riescono a risolvere i problemi che c'ha con la fragilità magari no ma il vento che si surriscalda pure c'è un po' scoppiante se risolvono questi problemi magari se no no ma questa parte la bagnerò ma mi stai rimanando satteggia tu vabbè perché banna pure questo no non banna solamente il nome eh no banna pure vabbè che ne freddico va un po' di meno rispetto a lei però lui si atteggia lui non si atteggia perché lui non è fatto così però capito che è una loro persona cioè io lo voglio bene perché beh non mi conviene tutto quanto non si atteggia perché lui non è fatto così perché si è satteggiata non mi aveva andato a fare veramente ma lui non si atteggia lui gli sta bene così non so vogliamo dire ti ettero che fai boh a me mi sa un po' di strano non so che non riesco tanto a fidarmi di lei non lo so ma c'è qualcosa che non inizio al suo potente non mi interessa c'è qualcuno che non mi ha pelle non lo so una sensazione strana però che non mi dà e vabbè noi continuiamo il nostro discorso spero che il video vi sia piaciuto spero che vi sia divertito dobbiamo spettacolare un pochetto ci vediamo al prossimo video ciao ciao stagosta ma tanto adesso la teina ma è perfetto ciao ciao ciao